Dopo l'ultimo fatto di cronaca avvenuto a Pescara, con l'accoltelamento dell'altra sera in piazza Santa Caterina da Siena in pieno centro, aumenta il senso di paura e disagio tra i residenti. Il questore di Pescara, Francesco Misiti, ribadisce che i controlli ci sono e la polizia è presente. E poi devo dire che la risposta nostra è stata immediata, tant'è che nell'arco noi di due giorni, quindi servizi fatti ieri e l'altro ieri, sia sull'area di risulta che su piazza Santa Caterina, eravamo dieci equipaggi, sono state controllate 180 persone, sgombrato un accampamento di 42 cittadini rumeni che erano vicini al Grand Hotel, quattro persone accompagnate extra comunitarie accompagnate in questura per verificare la loro posizione, sequestrato anche una ventina di grammi di sostanza superfacente. Voglio dire che questo che significa? Che è un controllo che noi facciamo sistematicamente tutti i giorni, lo facciamo su tutte le aree a rischio di Pescara e controlli che peraltro, come avete avuto modo di vedere, vengono intensificati nei fini di settimana perché ci dedichiamo anche a quell'aspetto altresì caro ai cittadini del riposo, della guida notturna, quindi andiamo a controllare anche i locali dove c'è una certa effervescenza della movita. I residenti nella zona di piazza Santa Caterina da Siena Pescara sono spaventati, hanno paura e chiedono alle istituzioni di chiudere per sempre giardini diventati da tempo, luogo di spaccio e di ricovero di sbandati e senza fissa di mora. Per chiudere l'area verde o darla in gestione è stata avviata anche una raccolta di firme. Sulla richiesta di sicurezza in città torna a parlare il questore Misiti. Intanto la chiusura del parco rientra in una valutazione dell'amministrazione comunale, dove io non entro assolutamente nel merito. Io posso solo dire che le forze di polizia sono presenti, il cittadino sa perfettamente che allora quando succede un vatto o c'è l'area di sospetto che si possa verificare un vatto, basta chiamare il 113-112 e si interviene con la massima tempestività. E intanto proprio ieri mattina un nigeriano di 24 anni ha aggredito e morsicato da un polso un finanziere dell'unità cinofila che lo aveva fermato per un controllo nei pressi della stazione ferroviaria di Pescara. L'uomo è stato arrestato per i reati di violenza e resistenza pubblica ufficiale ed evasione. La violenta reazione è stata causata dalla richiesta dei documenti. Dai successivi controlli è emerso che l'extracomunitario, con precedenti penali, si trovava inoltre a Pescara in violazione di una misura cautelare degli arresti domiciliari emessa nei suoi confronti dall'autorità giudiziaria di Napoli.